Nessuno e niente è dimenticato nella preghiera eucaristica, ma ogni cosa è ricondotta a Dio. Nessuno è dimenticato. E se io ho qualche persona, se parenti o amici che sono nel bisogno, posso nominarle in quel momento, o interiormente, in silenzio, o fare scrivere che il nome sia dito. Ah, padre, quanto devo pagare perché il mio nome venga lì? Niente. Capito questo? Niente. La messa non si paga. La messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito. La redenzione è gratuita. Se tu vuoi fare un'offerta, falla, ma non si paga.